L'euforia vacanziera ha inonto le sale del casino, che chiude in bellezza all'ottavo mese del 2017, superando 31 milioni di incasso, con un surplus pari allo 0,60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Va però evidenziato come al netto del poker e rimasto fermo per motivi strategici da maggio a luglio, l'azienda è cresciuta del 2,2%, mentre il gioco lavorato, 7,3 milioni in 8 mesi, ha realizzato una crescita percentuale del 6,8%. La roulette francese infatti ha registrato un incremento del 5,3%, mentre i giochi americani dell'8,8%. Nello stesso periodo il business elettromeccanico si è attestato a 23,8 milioni, con una crescita dell'1% rispetto ai primi 8 mesi del 2016. Ha contribuito alla buona performance annuale l'introito del mese di agosto 2017, che ha visto l'ottima ripresa per tutti i giochi. Per molti turisti le 98 nuove slot di ultima generazione installate negli ultimi mesi dal team Casinò, tra le più moderne del settore, hanno assicurato divertimento coronati da premi importanti superiori ai 5.000 euro. Sono stati 71 i super jackpot centrati, che hanno raggiunto moltissimi turisti italiani e stranieri, per un monte premi complessivo di 781.000 euro. Inoltre, premi superiori a 20.000 euro sono andati a ospiti milanesi, stavonesi e piemontesi.